Musica Buonasera, buonasera da Onda, DG in primo piano, la cronaca. L'avete sentito nell'anteprima la violenza sessuale in un albergo di Pesca Seroli, quindi ribaltata la sentenza in Corte d'Appello all'Aquila. Quattro anni di reclusione a un capo animatore turistico. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Quattro anni di reclusione, 10.000 euro di provvisionale risarcimento dell'equitarenza di civile e pagamento delle spese processuali e questa è la pena infritta dalla Corte d'Appello dell'Aquila per un 32enne capo animatore turistico di origine siciliana accusato di aver violentato una sua collaboratrice del Nord Italia di un albergo di Pesca Seroli. Il giovane, dopo 10 mesi di arresti domiciliari, era stato assolto nel luglio 2020 dal collegio del Tribunale di Sulmona. La procura aveva impugnato la sentenza e i giudici Aquilani hanno riaperto il caso, ordinando di ripetere l'escussione di tutti i testimoni. Ieri, davanti alla Corte, è stata sentita la vittima che ha confermato l'accuse. Ho subito violenza per tutta la notte, ha detto la giovane a assistire in giudizio dell'avvocato Alessandro Scelli, che aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la condanna dell'imputato. Per l'episodio che risale a 28 agosto 2019, la Corte ha condannato l'imputato a 4 anni a fronte di una richiesta di 7 avanzata dalla procura. All'epoca dei fatti l'indagine era stata curata dall'attuale procuratore capo della Repubblica di Vescara, Giuseppe Bellelli. Secondo l'imputazione, nel corso di una discussione al termine del turno lavorativo, dopo settimane in cui proponeva offerte amorose non corrisposte e poneva in essere comportamenti ritorsivi, approfittando anche della posizione di diretto superiore dello staff di animatori turistici, l'imputato avrebbe intrapreso una discussione con la giovane nella stanza riservata personale, chiedendolo il rapporto sessuale. Il secco rifiuto della sua sottoposto non avrebbe fatto desistere. La donna aveva raccontato di essere stata bloccata sul letto con la forza, costretta quindi a compiere e subire la prestazione sessuale. La ragazza finì all'ospedale di Avenzano che rilevò lacerazioni, attivando il percorso di protezione che portò alle indagini dei carabinieri e al rarresto del presunto autore. E ora la cronaca ci porta nel carcere di Castrogno, tentò di uccidere la moglie con ben 10 coltellati a Capestrano, muore suicida in cella. Un 36enne macedone a fare la mara scoperta. Nei giornate è stata la polizia penitenziaria, sentiamo i particolari, è il nostro servizio. Si è tolto la vita nel carcere di Castrogno, di Teramo, il 34enne macedone autore del tentato femminicidio di Capestrano. L'uomo lo scorso 14 novembre nel piccolo centro della provincia dell'Aquila aveva sferrato ben 10 coltellate alla moglie convivente in diverse parti del corpo alla presenza dei figli minori. Poi tentò di farla finita ingerendo un quantitativo imprecisato di farmaci. Arrestato e trasferito in cera dal giorno successivo ha reiterato in giornata l'estremo gesto dietro le sbarre del carcere teramano. Sulle circostanze del decesso sono in corso gli accertamenti della procura della Repubblica di Teramo territorialmente competente ma anche della polizia penitenziaria che ha fatto la mara scoperta. Al 34enne lo scorso dicembre il Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva sospeso la potestà genitoriale. E ora con la cronaca torniamo in Valle Peligna agricoltori in ginocchio 50 trattori nel piazzale del casello autostradale di Pratola Peligna si allarga la protesta Riva fino al territorio Peligno perché dicono così non si può più andare avanti. Vediamo tutto nel nostro servizio. Contro la riforma della PAC, il caro gasolio ma soprattutto la mancanza di pagamento da parte della GEA l'Agenzia Erogazione Fondi Agricoltura per questo siamo qui perché non si può più andare avanti. Con queste parole gli agricoltori della Valle Peligna aprono la protesta nel parcheggio del casello della 25 a Pratola Peligna. Circa 50 trattori si sono sistemati nell'area per protestare contro il taglio dei sussidi, costi e sussi di produzione, le politiche agricole dell'Unione Europea. La manifestazione pacifica che raduna gli operatori del settore attivi nel centro Abruzzo viene sorvegliata dal settore anticrimine del commissariato di Sulmona. La classe politica è stata la meno attenta delle ultime generazioni alle riforme e ai danni della fauna e non solo. Ogni volta che si deve rinnovare il bretto gasolio all'inizio dell'anno è una tragedia. Le attrezzature e i contributi per la minima lavorazione non sono stati erogati. Non siamo mai arrivati a tale bassezza. Con l'avallo delle associazioni di categoria commentano ancora gli agricoltori analoga iniziativa si sta svolgendo. Non troviamo neanche le parole per esprimere il nostro disagio dalla carne sintetica, alle farine di grillo alle arcise sui carburanti agricoli alla riduzione dei carburanti agricoli destinati a noi ai tagli della GEA, della PAC che ci stanno togliendo i prezzi dell'agricoltura dei nostri prodotti che non sono più sostenibili in quanto stanno scendendo a picco tutti i prodotti che noi facciamo mentre i prodotti che noi andiamo ad acquistare sono lievitati del triplo quindi è insostenibile questa politica questa politica insomma ecco siamo allo sbando totale cioè stiamo a rischio e fallimento tutte le nostre imprese agricole l'uva quest'anno c'è stato la peronospra le cose quindi non c'è stato neanche un sussidio per tutelarci la viticoltura il grano che viene dall'estero quando noi facciamo il miglior grano e non è neanche valorizzato l'emergenza abitativa con le case nel contratto di quartiere la giunta comunale di Palazzo San Francesco amplia i requisiti del bando per favorire una maggiore partecipazione facciamo il punto nel nostro servizio è sempre più diffuso il bisogno di una casa per cittadini spesso costretti a soluzioni precarie sopportando anche conseguenze gravi offrire perciò un'opportunità abitativa una platea più ampia di cittadini e promuovere una politica di sostegno alla famiglia prestando attenzione in particolare ai nuclei familiari, ai nuclei monogenitoriali alle giovani coppie alle persone anziane alle persone con invalidità 100% e lo scopo della delibera adottata dall'Aggiunta in vista del prossimo bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi a canone concordato rimasti disponibili nel centro polifunzionale contratto di quartiere in proposito l'Aggiunta aveva richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concedere l'autorizzazione per la modifica dei target inizialmente previsti si è quindi proceduto alla modifica dei requisiti innanzitutto requisito relativo all'anzianità di residenza del comune di Sulmona che dovrà essere posseduto dagli interessati almeno da sei mesi inoltre si vorrà dare accesso al bando alle coppie di futura formazione purché il matrimonio o la stabile convivenza si concretizzino entro un anno dalla data di pubblicazione del bando le giovani coppie ma anche ai nuclei monogenitoriali con figli conviventi a capo anche se anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare e ancora le coppie sposate unioni civili conviventi di fatto anche se anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare le persone singole e maggiorenni anche se anagraficamente inserite in altro nucleo familiare l'amministrazione ha voluto così estendere la possibilità di accesso al bando per venire incontro alle legittime preoccupazioni richieste di sempre più numerosi cittadini ha annunciato l'assessore delle politiche e sociali Paola Fiorino ci fermiamo con la prima parte a tra poco con le nostre notizie quando abbiamo pensato a Parco del Gusto la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio di fatti la struttura oltre ad essere completamente in legno ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Copp Hansape Terra Antica in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo la nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia locali che sono in grado di raccontare il nostro territorio dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche agricole della nostra valle come i legumi, cereali, farine per passare poi alle paste le trafilate in bronzo le produzioni artigianali ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto Parco del Gusto all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano propone quotidianamente tutte le nostre produzioni dall'olio extravergine d'oliva della varietà rustica e gentile fino alle produzioni lattiero caseari per chi volesse venirci a trovare Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica Statale 5 Raiano Parco del Gusto dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio Casa Funeraria Santilli un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita Casa Funeraria Santilli Via Edward Lier a Sulmuna È fondamentale riposare bene la serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete nel materasso e nel guanciale la scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità affidati a Semiflex fabbrica materassi artigianali memory in lana e a molle reti e doghe anche motorizzate lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita sedie, poltrone e divani Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia mescolando innovazione e tradizione fabbrica e showroom in via Alessandro Volta zona industriale Raiano grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a pranzo o a cena ristorante pizzeria La Vigna via Cerrano Prato La Peligna a String si chiama ristorante pizzeria di soluzioni all'uso Lavorare con passione, è questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla pose in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento Arraiano, zona industriale 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana. Incontra l'innovazione quotidiana. Seconda parte, ripartiamo dalla politica che finisce in tribunale dagli affari e i poteri nella politica. Il PD per queste frasi, per questi toni, ha denunciato gli ex militanti, ma la procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto l'archiviazione per 5. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Il tono e le parole sono taglienti, sversanti, perché esprimono un totale dissenso ideologico, ma non possono essere qualificati come inutilmente omilianti né ingiustificatamente aggressivi. Inoltre, sussiste la verità della notizia riportata. Con queste parole, il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, ha chiesto l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari per Alessandro De Panfilis, Carlo Piccone, Salvatore Di Cesare, Antonio Del Boccio e Rossella Tonelli, 5 ex militanti del PD che lo scorso 23 giugno, in una nota diffusa alla stampa, avevano preso le distanze da partito. La vicenda riguarda il bando della riflessione scolastica a cui aveva risposto una sola ditta, amministrata da commercialista associato allo studio professionale in cui lavora il consigliere comunale Mimmo Di Benedetto. I cinque nel comunicato dichiaravano di aver preso le distanze da partito per comportamenti non condivisibili, chiaramente orientati alla ricerca del potere e degli affari, per la pericolosa commissione di ruoli amministrativi e politici tra assessore, lavori pubblici e segretario di circolo. Gli estensori della nota chiedevano inoltre commissariamento recircolo, toni diffamatori secondo il segretario Franco Casciani, che ha nominato legale di fiducia Vittorio Masci, e il consigliere Di Benedetto, che hanno presentato querela nella stazione dei Carabinieri per stigmatizzare e denunciare accuse gravissime e assurde che hanno un intento chiaramente denigratorio. Non è dello stesso avviso la procura che ha chiesto al giudice di archiviare le accuse formulate a carico dei cinque indagati difessi dall'avvocato Teresa Nanarone. I termini utilizzati nella lettera, seppur pungenti, non sembrano travelicare il limite della continenza, scrive Mariotti, ribadendo che sussiste la verità della notizia riportata. Da qui la richiesta di archiviazione perché fatto non sussiste, o comunque il fatto non costituisce reato, è in subordine per la tenuità del fatto. E ancora la cronaca giudiziaria, non ci fu abuso d'ufficio, due assoluzioni per il processo che riguarda l'ufficio tecnico di Rivi Sondoli. Sentiamo nel nostro servizio. Il fatto non sussiste e con questa formula il collegio del Tribunale di Sulmona ha assolto questa mattina a Tiglio Palombizio Luigi La Civita, rispettivamente responsabile collaboratore dell'area tecnica del comune di Rivi Sondoli, dall'accusa di omissione di atti d'ufficio in concorso. I fatti risalgono al periodo 2019-2021. La vicenda fa riferimento all'attività di vigilanza in materia urbanistica ed edilizia relativamente a quattro procedimenti penali, aventi oggetto a bussi già sanzionati dall'ufficio tecnico. Secondo l'accusa, gli imputati non avrebbero evaso le richieste di informazioni da parte del comandante della stazione dei Carabinieri di Pesco Costanzo in ordine a tali procedimenti. In realtà nel corso del processo è venuto fuori che quelle richieste non attenevano le funzioni assegnate all'architetto La Civita in capo all'ingegnere Palombizio, il quale peraltro aveva pure evaso le richieste avanzare dei militari. Da qui la soluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Pietro Savastano, Umberto Di Pillo, Anna Rita La Civita. Allagò una sezione del carcere e tentò di uccidersi con l'elastico degli slip. Alla fine il collaboratore di giustizia del carcere di Sussmona è stato trasferito in altra struttura, proprio come avevano chiesto le organizzazioni sindacali. Sentiamo tutto nel nostro servizio. È stato trasferito in altra struttura penitenziaria collaboratore di giustizia di 40 anni che lo scorso 4 gennaio aveva tentato di uccidersi nel carcere di massima sicurezza di Sulmona. L'uomo negli ultimi tempi si era reso protagonista di azioni eclatanti, turbando e non poco la serenità nell'ambiente penitenziario. Nelle scorse settimane aveva tentato il suicidio con l'elastico degli slip, ma lo scorso anno per ben due volte aveva allagato con l'idrante un'intera sezione penitenziaria, dando un'escandescenza, arrivando perfino a minaggiare gli agenti penitenziari operanti. Un detenuto problematico che le sigle sindacali da tempo avevano chiesto di trasferire in altra struttura penitenziaria, richiesta dopo tanto accolta. Il carcere di Sulmona si conferma uno dei più difficili da gestire, con una carenza di personale tra i penitenziari che tocca i massimi storici tra 60 malattie e oltre 30 distacchi. Un'esperienza di turismo sostenibile tra fede e natura è il Cammino di Celestino. Ne parliamo nel nostro servizio. Tra le proposte di turismo sostenibile che il Ministero del Turismo ha raccolto nel suo catalogo dei cammini religiosi, c'è il Cammino di Celestino, un itinerario che attraversa l'Abruzzo seguendo le orme di Pietro Angelerio, l'eremita che divenne papa con il nome di Celestino V nel 1294. Il Cammino di Celestino, nato nel 2018, si snoda per circa 150 chilometri tra le montagne della Maiella e del Morrone, dove si trovano gli eremi rupestri frequentati da Celestino e dai suoi seguaci, le città storiche e artistiche dell'Abruzzo, come l'Aquila, Sulmona e Pacentro. Il percorso termina Ortona, dove si trova il Santuario del Miracolo Eucaristico. Il Cammino di Celestino è un'occasione per scoprire la bellezza e la diversità del territorio abruzzese tra paesaggi naturali, patrimonio culturale, tradizioni gastronomiche e spiritualità. Il Cammino di Celestino è anche un modo per vivere un'esperienza di crescita personale e di condivisione con gli altri camminanti, che ricevono la carta Peregrini, un documento che attesta la loro partecipazione al cammino e che offre loro vantaggi e sconti lungo il tragitto. Al termine del Cammino, i pellegrini ricevono il Testimonium, un certificato che testimonia il loro impegno e la loro soddisfazione. Il Cammino di Celestino ha riscosso un grande successo negli ultimi anni, registrando un costante incremento dei partecipanti, sia italiani che stranieri, che hanno scelto di intraprendere questo viaggio alla scoperta di se stessi e dell'Abruzzo. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Un premio per il pilota sulmonese Cristian Micocero, domenica scorsa nel corso del Motorbike Expo di Verona, il maggiore evento fieristico internazionale italiano dedicato ai motociclisti, si è svolta la premiazione ufficiale di tutti i campioni dei trofei nazionali di moto, velocità su pista stagione 2023. Presente tra loro anche Cristian Micocero, il pilota del motocrape Abruzzo di Sulmona, che ha così ricevuto la sua investitura ufficiale. Nel corso della manifestazione gli organizzatori hanno anche annunciato le novità del trofeo RR Cup per la prossima stagione, tra cui la più rilevante è certamente l'inalzamento dei limiti cronometrici di competitività dei partecipanti ammessi. Questo da un lato permetterà a Micocero di partecipare allo stesso campionato anche nella stagione 2024, ma dall'altro renderà ancora più difficile la sua conferma a causa di avversari più veloci, che arriveranno sicuramente da altre categorie. Ora ci spostiamo a Villa Lago dove Fede Fuoco si incontrano nelle tradizionali fanoglie di San Domenico, è il nostro servizio. I nostri riferimenti prima di chiudere sull'home page del nostro sito internet abbiamo la violenza sessuale con la sendenza ribaltata, il caso di Castronio, le notizie del giorno, www.ondariv.tv per seguirci in tempo reale. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione, a tutti una buona serata. a tutti una buona serata.